Aspettiamo un attimo che Facebook si accenda, eccoci qua, buongiorno e benvenuti alla zuppa di porro di oggi 10 aprile 2019. Intanto una piccola premessa ragazzi, quello che sta succedendo in questa città di Milano ti fa capire che cosa sarebbe un posto normale, cioè una città normale quando c'è un po' di attività economica, quando arriva gente, quando ci sono persone di tutte le nazionalità che vengono, persone di tutte le nazionalità che vengono per spendere, per guardare, per vedere, cioè non c'è nessun tipo di, voglio dire, come vi posso dire, razzismo, xenofobia. Quando io sento la parola xenofobia e vedo quello che sta succedendo oggi a Milano, vi dico ragazzi che vuol dire la xenofobia? Che non vogliamo gli stranieri? No, non vuol dire questo, noi vogliamo gli stranieri, questa è una città straordinaria, ma il punto è capire che cosa ci vengono a fare qua gli stranieri, a vedere, comprare, innovare, intraprendere, capire che cosa sta succedendo, ecco questo forse è un mondo normale, ma se tu vedi 500.000 persone che arrivano per tutta la vita senza sapere neanche che cosa fare in questo paese, forse allora a quel punto qualche idea in più c'è, ieri comunque c'erano talmente tante code e qui apro e chiudo la parentesi, oggi i giornali sono pieni del salone del mobile, eccetera, che vi devo dire la verità che uno perde anche la voglia, ma questo non c'è sui giornali, sui giornali ci sono le solite rotture di balle che ci sono in questo periodo, in particolare una, quella del DEF. Vedete, il DEF è il documento economico e finanziario, come lo ha soprannominato oggi Giannini, sulla Repubblica che non ama affatto questo governo, lo chiama il déplion delle fantasie, insomma mi sembra una cosa di questo tipo. Giannini ha ragione perché è innegabile, lo scrivono un po' tutti i giornali, fanno vedere cosa era previsto nel DEF a settembre, cioè l'1,5% di crescita di questo paese, poi a dicembre quando è stata fatta la finanziaria, la crescita scendeva all'1% e dopo tre mesi a marzo la crescita si ridicolizza tra lo 0,1 e lo 0,2%, con nessun apporto a questa crescita di fatto come noto al sole 24 ore da queste inutili manovre sul reddito di cittadinanza e meno inutile ma altrettanto pericolosa dal punto di vista dei conti di quota 100. Allora, tutto questo per dire che il DEF è una palla, non dice nulla, smentisce tutto, è una fandonia, ecco però, toc toc, com'era con il governo Renzi? Toc toc, com'era con il governo Gentiloni? Cioè, sono mai stati rispettati i dati del DEF e lì c'era crescita economica in tutto il mondo e non decrescita? Cioè, il DEF è un libro dei sogni, come tutti sono i libri dei sogni, quei libretti in cui si pensano i politici di prevedere quello che avviene nei prossimi tre anni, perché loro sanno meglio di noi cosa avviene nei prossimi tre anni. Io direi che invece del DEF, che si potrebbe tranquillamente abolire, è una specie di rito inutile in cui tutto quello che c'è scritto dentro vale zero, però vale moltissimo per i tecnici, i ragionieri, gli economisti, i giornalisti che scrivono minchiate sulle virgoline del DEF, bisognerebbe andare dal macellaio, dal fiorista, dall'artigiano, dal commerciante e dire, scusami, l'anno prossimo te la compri la macchina, scusami, l'anno prossimo paghi l'università a tuo figlio, scusami, l'anno prossimo te cambi il vestito, ecco, quello varrebbe di più che capire il DEF, cioè il senso della possibilità che hanno gli italiani di pensare negli anni prossimi di poter investire, comprare, spendere, consumare. Vale molto più di questo DEF perché vale zero, da sempre, ed è l'idea illuministica della ragione per cui i politici a tavolino possono sapere attraverso i modelli macroeconomici che cosa succede negli anni prossimi. Ma di questo ovviamente non troverete traccia nei giornali. Nei traccia nei giornali troverete invece ovviamente quello che il DEF ci può raccontare, cioè la diapansè che hanno i politici quando scrivono questi numeri, cioè cosa intendono fare nella prossima finanziaria. La fanno questa flat tax o no? Beh, insomma, hanno discusso per ore e giorni se inserire o no la flat tax nel DEF. È tra parentesi tonde, come nota oggi il Corriere della Sera, e sono state spunte le aliquote o l'aliquota alla quale questa flat tax dovrebbe agire fino a 50.000 euro, come mi ha detto Salvini l'altro giorno, in trasmissione. Quindi, insomma, pari a zero, anche sulla flat tax, che è l'unica cosa interessante, c'è scritto poco. Forse l'unica cosa che c'è scritta è che se si dovesse ridurre il gettito si dovrebbe aumentare l'IVA. Allora cosa succede? Che tu riduci la flat tax, riduci le tasse sul reddito, ma le aumenti su quello che tu consumi. Non so se questa è un'imposta che piaccia agli italiani, ma comunque è un'imposta di fatto regressiva. Cioè sono quelle imposte che colpiscono di più le persone più deboli e colpiscono di meno le persone ovviamente più facoltose. Tipiche imposte, diciamo, dell'età moderna e di le quali sto scrivendo un libro, proprio su questo. Cioè le imposte, in realtà, nel nuovo secolo, sono imposte completamente diverse rispetto a quelle del Novecento, che non sono imposte sul reddito, giusto o sbagliate che siano, erano imposte sul reddito e sul patrimonio. Le nuove imposte ce le raccontano diversamente. Secondo tema di giornata, insomma io la trovo incredibile, è stato assolto in Cassazione per le sue cene e per i suoi scontrini farlocchi marino. E allora io mi chiedo, ma scusatemi, e se lo chiede mi sembra qualche giornale, ma De Vito e Raggi, presidente in galera, che secondo me peraltro non merita di stare in galera, del Movimento 5 Stelle di Roma, e la Raggi, che sono diventati sindaci su quella roba lì, come la mettiamo? E la macchina, se viene parcheggiata da Raggi davanti a un passo carraio, non è uguale alla panda rossa di Marino. E se Marino aveva i suoi pasti, le sue inefficienze, era una pippa, chiaramente, a fare il sindaco di Roma, nessuno lo sta difendendo, quello va bene. Se invece lo fa la Raggi, no. Insomma, ragazzi, imbarazzante l'operazione che abbiamo fatto su Marino. Devo dire che non ci mancherà a Marino, ma devo dire che quando uno lo stritoli dal punto di vista giudiziario, ma la Raggi, in tutto questo, cosa faceva? Vabbè, non lo so. Gaetano, ciao Nicola, vietato aumentare l'IVA, Angelo, Marco De Eugenio si collega ora. Vado anche su Instagram, che vedo che ci sono tanti altri che si sono collegati, Andre, Tiziana e così, continuando. L'altra grande questione di oggi, che non dovete salutare affatto, riguarda Trump e i suoi possibili dazi all'Europa. Vedete, non sono dazi come ci dice qualcuno, Trump tasserà il prosecco e il parmigiano, lo farà purtroppo, ma in realtà è il concetto assurdo, sbagliato, sapete che non sono certamente... Buongiorno Andrea, vedo che si è collegato. Non è certo Erosana, il punto fondamentale è che non bisogna confondere una simpatia che si può avere nei confronti di Trump per quello che lui ha rappresentato, cioè l'anticlintonismo, l'antiobanismo, con le minchiate che fa in politica economica. Le minchiate in politica economica, cioè quella di continuare a pensare che il mondo sia più piccolo, e che bisogna mettere i dazi, e che questo è l'unico strumento per poter fare politiche commerciali nel mondo, questo non ha vantaggio a nessuno, non ha vantaggio agli americani se non nel breve periodo, e non ha vantaggio neanche agli europei. Il concetto è molto semplice, siccome voi aiutate europei Airbus e noi non aiutiamo Boeing, allora noi vi facciamo delle ritorsioni su una serie di beni che producete voi in Europa, dalle motociclette al parmigiano. È vero che l'Europa aiuta Airbus? Certamente sì, ma è vero che gli americani aiutano tanti altri settori, dall'agricoltura alle auto, in maniera indiretta? È altrettanto vero. Ecco, se iniziamo a fare un mondo che combatte su queste cose, oggi non c'è un tema di questo tipo, certamente non ci fa bene. Guardate, oggi i giornali ne parlano relativamente. Il pezzo migliore, come secondo me avviene spesso, è quello di Meotti sul foglio riguardo alle elezioni in Israele. Perché le elezioni in Israele, per occhi istanti fa, abbiamo visto che le ha vinte, anche se di pochissimo, Netanyahu. Quinto mandato, e buono anche il pezzo di Fiammanire, sta in oggi sul giornale. Però la cosa interessante riguardo a queste elezioni israeliane non è tanto chi vince, se l'ex generale di corpo d'armata o l'ex premier Netanyahu, che per la quinta volta diventa presidente di Israele, ma che quello è un puntino di democrazia in Medio Oriente e che per 71 volte, cioè in 71 anni, scusatemi, si è votato in Israele. E questo non avviene nella Palestina di Ramallah, dove viene preso Abu Ammar da dieci anni, che diventa, scusatemi, Abu Ammar, Abu Mazen, viene sostanzialmente cooptato al 2009. E questo non avviene nella striscia di Gaza, dove comanda Hamas. Cioè quello che sostiene Meotti, giustamente, indipendentemente da chi vince, quello è l'unico paese, ad esempio, dove le donne arabe hanno un diritto di voto in quella zona, in cui possono andare a votare liberamente, in cui ci sono dei partiti che possono dire alla Knesset, che possono dire nel Parlamento israeliano che quello è un Parlamento di fascisti e non venire uccisi o imprigionati per quello che dicono. Ecco, Israele, nel bene o nel male, secondo me nel bene, è un paese molto più simile a noi di quanto lo sia quel mondo arabo assolutamente intollerante che c'ha vicino a Mazentua, mi dice qualcuno. Israele diventa sempre di più modello di democrazia. Non lo so se diventa un modello di democrazia, ma è sicuramente l'unico paese civile, come dice, da un punto di vista democratico, che c'è in quella area. Giulio Meotti, oggi, fantastico, e racconta anche l'altra cosa che tutti si dimenticano, il 20% di Israele sono arabi israeliani. Bene, io direi che per oggi è tutto, non c'è moltissimo sui giornali, è tutto piuttosto noiosetto. Catarina, adesso vedo, e tanti altri che si collegano su Instagram, abbiamo fatto questa doppia visione Instagram e Facebook. Instagram, speriamo di riuscire a salvare tra le storie questa nostra conversazione, certamente su Facebook la ritrovate anche sul sito nicolaporro.it. Adesso chiudiamo prima Instagram, ecco, no, chiudiamo prima Facebook.